www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv per la resa dei ragazzi a scuola questo è l'argomento della settimana iniziamo subito con le nostre interviste sulla scuola, i voti bassi a scuola secondo lei servono? no, io no sotto il 4? secondo me no è più importante non dare un voto ma educare di più penso io quindi più importante è il giudizio? il giudizio che il voto un giudizio negativo deve essere naturalmente negativo nel modo giusto altrimenti si ottiene l'effetto contrario quindi un voto tipo 2, 3 non servono a niente? non servono a niente poi i ragazzi vanno aiutati non biassimati ok lei non ha mai preso i voti sotto il 4? no, no ero bravo a scuola ah ok ai miei tempi però è sempre stato un ottimo allievo va bene invece c'erano dei professori che davano anche i suoi tempi dei voti no, davano dalle bacchettate magari sono più istruttive quelle? no, facevano mettere le mani sul banco e poi la bacchetta si usava così le maestre ci prendevano le guance servivano di più appunto le bacchettate va bene stiamo facendo un sondaggio sui voti bassi a scuola servono i voti bassi secondo lei? i 2, i 3? secondo me sì io sono un ex insegnante quindi abbiamo beccato la persona giusta secondo me sì bisogna fare la differenza un 4 e un 2 anche perché in genere gli insegnanti fanno delle griglie delle tabelle tot errori 4 tot errori non può essere un numero maggiore di errori e lo stesso voto certo quindi io sono sì sempre favorevole io ho dati 2 o 3 e non è morto nessuno dico verità quindi questo è il mio parere cosa dice i ragazzi appunto qualcuno dice sono scioccati o qualcuno serve per... ma non è vero ma non è vero dipende da come sono preparati dalle famiglie basta dire no tu hai preso così la prossima volta potrai se ti organizzi meglio poi superi queste difficoltà questi problemi io li ho avuti nessuno è rimasto scioccato la differenza tra voto e giudizio secondo lei qua io penso che il giudizio è migliore però si presta mille interpretazioni il voto è un giudizio secco è chiaro che il voto negativo o positivo racchiude racchiude un giudizio positivo o negativo chiaramente quanti ne ha dati di voti sotto il 4 nella sua vita beh onestamente non tantissimi non tantissimi perché un voto inferiore al 4 significa proprio zero cioè indifferenza lacune fortissime che comunque a mio parere si possono recuperare basta la buona volontà e l'impegno dobbiamo abituare i ragazzi a impegnarsi perché non viene regalato nulla nella vita lo sappiamo benissimo nessuno ti regala niente devi sforzarti devi impegnarti devi lavorare devi conquistare ma anche i professori nella loro vita da studenti li hanno presi qualche 4 io? si li ho presi si si li ho presi io ho frequentato il liceo scientifico e ho preso i miei 3 non sono morto mi sono impegnato ho recuperato ho studiato mi sono lavorato e ho fatto la carriera che volevo fare quella di insegnante sui voti bassi a scuola la servono secondo lei? certamente qualcuno dice che sotto il 4 non hanno significato ma sicuramente sotto il 4 secondo me è un po' basso quindi dovrebbero partire dal 4 fino al 10 ma si torniamo al discorso dello 0 quando vede un certo programma non facciamo pubblicità dove lo 0 non ha nessun significato quindi secondo me sotto il 4 secondo me non è un voto penso che un 4 sia già un voto che dà un certo significato ma i ragazzi che prendono appunto un voto sotto il 4 è davvero fonte di shock? ma di shock no penso che shock siano altri anche perché penso che chi prende a 4 sa già che e penso che sia consapevole che non è preparato va bene e lei non è mai capitato di prendere voti insufficienti? sicuramente sì se li ricorda ancora? le sono serviti magari per impegnarsi di più? mi sono serviti per un semplice motivo ho cambiato scuola visto che io avevo iniziato a fare il magistrale vedevo che le materie non erano predispose le materie adatte a me quindi ho fatto ragioneria in quel ambito lì molti scegliono una scuola che secondo me non è una scuola che sento ma vengono spinto io parlo dei miei tempi adesso non lo so dai genitori dalla famiglia o da un familiare che è un insegnante come nel caso mio e quindi automaticamente penso che le materie tecniche erano più adatte per me anche se poi ho fatto un lavoro totalmente diverso ok e i giudizi forse sono meglio i giudizi dei voti? dei numeri? secondo me sì perché i giudizi danno un significato un significato della persona quindi le lacune che ha questa persona nel voto è un voto è come giudicare una persona se da un giudizio secondo me il giudizio è più positivo del voto sicuramente e penso che il ragazzo lo prenda con più lo prenda con più tranquillità diciamo diciamo che non mi viene in mente la parola con tranquillità e serenità forse pensa a quanto c'è scritto al giudizio quindi sicuramente il giudizio è più lo fa riflettere di più ecco la parola la parola giusta lo fa riflettere di più esatto lo fa riflettere di più come va la scuola io ho lasciato come mai non era il mio percorso cosa avevi iniziato a fare meccanica meccatronica e poi poi nulla a me piaceva la materia però tagghi mi avevo di studiare e quindi hai detto meglio sì meglio andare a lavorare e imboccarsi le maniche ok adesso stai lavorando sto cercando appunto e poi ne ho mandato il curriculum da qualche parte e ora si vede quindi immagino che qualche 4 arrivava quando facevi anche più sotto sì 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 che voto davano in genere no beh io me la cavavo anche col 6 però c'erano alcune materie tipo inglese storia quelle lì che io non le sopporto arrivavano anche i 2 i 3 e che che senso arrivava il 2 e? e nulla nulla no perché non era proprio ma qualcuno dice sì un voto basso ha uno stimolo ad impegnarsi di più sì secondo me il voto basso non ti stimola ad impegnarti di più secondo me no anzi ti abbassa solo chi di più perché dici magari tu hai studiato anche tanto e tanto e tanto però arriva il voto basso e ci perdi le speranze io ti parlo per l'esperienza d'inglese storia semplicemente non c'è la voglia di studiare qualcuno dice sarebbe meglio dare giudizi più che i voti giudizi più che i numeri secondo me i numeri a scuola danno tanto peso ai ragazzi perché vieni classificato alla fine come un numero capito magari c'è il compagno che prende otto lui è da otto quindi è molto più bravo di te il professore invece te che sei da quattro ti vede un po' come tanto non vai da nessuna parte secondo me non dico tutti perché ci sono tanti professori bravi però alcuni professori secondo me ti guardano come un numero quando invece un giudizio più sincero secondo me sarebbe molto più utile ce n'era qualcuno che pestava più degli altri per quanto riguarda i voti bassi a me sinceramente non mi è mai capitato i cosiddetti professori un po' più cattivi non mi sono mai capitati a me sono tutti stati sempre bravi i voti sotto il quattro servono a qualcosa sono utili e diamine i voti sono sempre utili anche se un due uno zero serve dare zero un ragazzo gli fa venire voglia di studiare di più non arrivo a capire lei non ha mai preso dei voti sotto il quattro sotto no ancora ai miei tempi non usavano non usavano usavano sufficiente non gli davano i numeri no non usavano i numeri ed era bravo lei a scuola così così in quale materia se la cavava di più la matematica hai reso forte un genio della matematica stiamo parlando dei voti a scuola sotto il quattro i voti hanno significato questa polemica stop ai voti bassi a scuola ma per me sotto il quattro non hanno significato quindi è d'accordo con chi vuole eliminarli sì sono d'accordissimo con chi vuole eliminarli lei non ha mai preso no però insomma i ragazzi possono anche arrivare a voti bassi e quindi io penso che non sia proprio il motivo giusto un due dicono che non serve a motivarli sono cose che per i ragazzi sono un po' devastanti questi voti bassi quindi secondo lei smorzano ancora di più la voglia di studiare i voti sotto il quattro per me sì o meglio i giudizi bisognerebbe vedere insomma un po' anche il ragazzo com'è lei ha mai incontrato dei professori che amavano mettere i voti bassi tipo 0 1 questi voti qualche voto bassi l'ho preso anch'io come hai reagito? sempre male qualche volta a casa li abbiamo anche presi sono cambiati un po' i tempi sì meno male meno male secondo lei hanno senso questi voti sotto il quattro? no 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 perché no anche perché non danno cioè stimolo ai bambini non inferiore a quattro penso di no proprio quindi sono fonte anche magari di chiamiamola depressione sì anche perché si sentono magari un po' invece magari per stimolarli ecco un po' cinque sei una cosa così qualcuno dice che per stimolarli forse è meglio il giudizio del numero sì però bisogna vedere anche magari con i compagni come la prendono la cosa la penso così dopo non so se lei come andava a scuola? beh io a scuola andavo bene ma però purtroppo non ho fatto le superiori perché ai miei tempi ero la prima di otto fratelli quindi non c'era possibilità però di voti sotto il quattro non è mai no no anzi in matematica ero brava anche storia un po' meno perché non mi piaceva più studiare sì però in matematica erano suon di dieci che arrivavano sì sì bene dicono che dovrebbero tolti dovrebbero essere eliminati i voti bassi la scuola se uno si all'emerita minimo quattro non più bassi perché più bassi non sono educativi se uno studia che non fa niente come le prendevamo noi come prendevi anche dei no io ho perso meno di non ricordo meno di quattro ma c'era anche chi le prendeva se non fai niente che non studi perché no secondo me dopo non so c'è differenza tra un due e un quattro e beh dopo a recuperare penso che ci voglia di più ok ok qualcuno dice perché non mettere i giudizi anche alle scuole superiori eh non lo so io sono rimasto ancora ai voti ai miei tempi c'erano i voti quindi non so non so teniamoci quelli eh teniamoci quelli grazie per me i voti sono più voti danno più un'idea immediata infatti sei sufficiente sotto sei insufficiente mi sarà capitato però di quella volta di prendere quel voto che ti ha gasato di brutto qual è stato te lo ricordi un voto sì io non ero una secchia quando prendevo il 7-8 io ero contento se faceva festa una settimana eliminare i voti bassi cosa ne pensa da sotto il 4 non mettere questi voti il sistema cominciare dal 4 se proprio non hai scritto niente sul computing class se non hai risposto niente l'interrogazione è 4 ma non di meno eh sì infatti è vero anche di più dai se fanno 4 i ragazzi non vanno non vanno bene a scuola dopo quindi lei è contro il 3 contro il 2 se sono giustamente che non hanno voglia di studiare no perché allora è giusto così ma se magari ci la mettono tutta perché devono andare alle 4 i ragazzi poi si diprimono giusto quindi quindi voti troppo bassi non aiutano i ragazzi d'oggi forse un tempo sì perché i genitori erano molto più severi di adesso per me quindi se arrivava a casa con un 2 piuttosto che un 4 era diverso molto diverso io ho avuto due figli e infatti il mio primo era abbastanza seguito abbastanza bene prendeva 4 c'era la punizione purtroppo e poi al giorno d'oggi i ragazzi è cambiato il mondo è cambiato e giustamente non hanno più voglia di studiare poi tutti i primi con il 3 il 4 cosa fai e i ragazzi non studiano più perché dice giustamente non hanno più voglia di studiare perché si sentono già non hanno più l'appoggio forse dei genitori non è più come una volta i genitori magari se la se la prendono magari invece non le frega niente io ho avuto un'esperienza da un ragazzo che probabilmente i genitori vabbè se tu non vai a scuola buono lascia perdere o se no faccio io faccio i compiti per te che almeno così giustamente io capisco una cosa che ho visto realmente che mi è capitata nel senso non a me ma a una persona vicina e lei come andava a scuola io oddio non torniamo a questo argomento perché è bello parlare degli altri però no ti spiego il tempo indietro non ti insegnavano mica tanto il tempo indietro ti lascevano se non eri proprio proprio avevi scusi eh che non avevi magari la lampadina accesa subito ti metteva l'ultimo banco e non ti davano neanche un aiuto capito quindi ne ha presi qualche voto sotto i quattro no sono levata a cinque dai eh va bene sono levata a cinque niente male allora però bene o male studiare piaceva però il giorno nel mio nel mio tempi ti mandavano a lavorare 13 anni 14 ormai io ho fatto 15 anni ho iniziato il lavoro subito anche se avevo un sogno nel cassetto ma non potevo farlo perché i genitori lavorava solo uno con tre femmine dovevi subito andare a lavorare bisognava contribuire all'economia all'economia sì perché la crisi c'era la vedevi adesso hanno i ragazzi d'oggi hanno buon tempo hanno tutto invece noi ci contavamo per una per ti ricordi mille lire se ti vedevi mille lire sembrava che venessi chissà cosa mamma vado a prendere qualcosa mille lire che bello ho preso mille lire eri felicissima il giorno d'oggi adesso vai con 50 100 euro e non sono anche abbastanza capito il giorno d'oggi eliminare i voti sotto il 4 sono diseducativi cosa ne pensa? sì sono favorevole a lei capita di dare dei voti sotto appunto sotto la soglia del 4? sì a volte sì però a volte il voto è un po' penalizzante demotiva quindi sarebbe bello trovare un'altra modalità e fate la stessa cosa che dicono appunto coloro che hanno lanciato questa proposta demotivante sì un pochino sì meglio i giudizi? anche il giudizio può essere demotivante quindi se qualcuno avesse la soluzione benvenga insomma però si fa del proprio meglio per cercare di motivare e comunque fare in modo che i ragazzi crescano scusate ma abbiamo un conto non è mai capitato che un ragazzo dopo un 2 abbia detto sì adesso voglio ripartire da questo 2 per fare meglio a volte servono sì a volte servono anche i risultati chiaramente negativi cioè informare effettivamente di quello che è per poi ripartire l'importante è che poi il ragazzo venga accompagnato nel capire dove sono gli errori e soprattutto che capisca che si può crescere ecco da da un insuccesso che si possono gettare le basi per far meglio insomma cosa ne pensa dei voti sotto il 4 sono utili perché adesso c'è questa polemica si vorrebbe eliminare i voti sotto il 4 per me sì cioè non hanno senso o se non è sufficiente non è sufficiente cosa vuol dire 0 no sono d'accordo sono d'accordo per eliminarli cioè fino al 4 poi non hanno senso secondo me così istintivamente lei sono della stessa idea quando è insufficiente è insufficiente dopo che gli dà 0 che gli dà i 4 uno se non ha studiato non ha studiato per cui la storia è questi termini per me anche perché poi magari recuperare anche un 0 è come si fa la media sarà dura bravo ecco non avevo pensato neanche alla media effettivamente è impossibile uno deve prendersi un 10 ma se già è giù basso infatti no no sono d'accordo povero no per carità e i giudizi al posto del numero allora i giudizi sono una cosa importante interessante secondo me andrebbero abbinati al voto metti un voto e sotto la motivazione di questo voto metti se uno prende un tema un 7 in un tema ma perché cosa è mancata l'ortografia la sintassi il contenuto quindi o il giudizio va benissimo oppure il voto con un giudizio espresso in modo che uno capisca il perché si è preso quel voto comunque secondo me il giudizio comunque più completo di un voto giudizio che non sia buono ottimo è distinto perché sennò è la stessa cosa un giudizio che sia un attimino che esprima un attimino il valore di questo giudizio e adesso parliamo di noi mai capitato di prendere un voto sotto il 4 sotto il 4 no a me sì se lo ricordo ancora quale materia vabbè non so se mi ricordo se era italiano però si ricorda mi ricordo mi ricordo che l'ho preso il 4 e la reazione in quel istante è stata di voglio recuperarlo mi devo impegnare di più oppure l'ha mandato un po' in depressione ma quello di recuperarlo sì ma depressione no perché se non è studiato non è studiato la storia è inutile che ci nascondiamo voti a scuola ma lei non ha mai preso dei voti sotto il 4 anche il 3 anche il 2 e le volevo chiedere questa cosa sono serviti proprio niente perché infatti vorrebbero togliere i voti bassi stop e i voti bassi dicono che in effetti sono inutili sono inutili ho gestito il voto c'entra sì e no perché magari io faccio un compito magari sono magari il giorno dopo faccio un'altra cosa ne prendo voto non è che proprio secondo la mia opinione da ignorante ed è meglio il voto un numero freddo o un giudizio è meglio un giudizio che il giudizio più o meno è generale la mia dal compito il giudizio può essere anche con me magari lungo l'anno un giudizio ho fatto bene e dopo questo è il giudizio e questo è il giudizio per meglio quindi togliamo i numeri e mettiamo giudizio e mettiamo giudizio secondo la mia opinione avete mai pensato voti sotto il 4? sì può essere sì ma sono passati tanti anni ormai ma te le faccio da secchione non ci credo no e servono appunto questi voti sotto il 4? danno motivazione o invece deprimono? probabilmente servono a volte perché non si può sempre avere voti alti e bisogna anche capire che a volte purtroppo non si arriva alla sufficienza e quindi accettare il 4 e recuperarlo sono quindi degli stimoli non sono esatto delle botte morali che ti deprimono sicuramente una botta morale però una botta morale portata dal fatto che magari bisogna impegnarsi un po' di più o meglio i giudizi anche allora forse con i giudizi ci si confronta un po' meno e si riesce a trovare la spiegazione del perché non si è riuscita arrivare alla sufficienza forse aiuta un po' sarebbe meglio il giudizio sì il voto più basso della tua storia da sudentessa no no non si dice ok ho capito che era uno zero ok no zero no non lo davano non lo davano meno male e il tuo più basso? non mi ricordo però sicuramente un 4 è cessato sì sì parliamo di voti a scuola sotto il 4 secondo lei sono utili? certo che utili conto a me rimane in asia tutta la vita ecco io ho fatto 50 anni il maestro no non di scuola di sci ah ok dava anche i voti a quelli che sciavano? ma le scuole private davano i voti cioè dicevano l'insegnante la settimana che facevano dovevano dare un giudizio sia anche degli impianti sia del maestro lei che voti ha avuto da maestro? maestro bravo le davano gli 8 i 9 le davano i 4 ascolta io vengo dalla gavetta perché io ho 83 anni complimenti bicicletta bacio le mani i piedi ascolta da un asino non può correre all'ippodromo tagliate tagliate lei invece era un cavallo di razza quello che è giusto è giusto scusa il talento lo vedi subito da bambino anche a scuola anche da studente certo io ho la fortuna ho un nipote è andato in accademia militare è pilota era uno povero valla qui trafittore bisogna lasci da fare nella vita dal cielo vi è giù l'acqua e la neve e basta invece qui fanno l'incontrario se il figlio dice dottore vai avanti e canta lo pesce vede lo mare e paese mio e lei a scuola gli ha presi qualche quattro? ma quando andavo a scuola io portavi ancora il pezzettino di legna lì guarda per scaldare non c'era c'era non solo se metteva lo zero metteva davanti l'uno ecco furbo stiamo facendo un sondaggio sui voti a scuola guardi è capitato bene perché io sono un'insegnante ottimo sono una maestra ottimo proposta che arriva dall'alto adige eliminare i voti bassi a scuola stop ai voti sotto il 4 inutili guardi noi alle scuole primarie non le cioè meno di 5 non possiamo usiamo gli obiettivi pienamente sufficiente pienamente raggiunto l'obiettivo però ecco io comunque sono del parere che bisogna anche mettere dei voti bassi perché altrimenti mandiamo avanti degli assinelli quindi non è giusto mettere sempre bene pienamente raggiunto sufficiente però un effetto che effetto fa il 2 no questo no questo no a lei non è mai capitato nella sua vita di maestra mettere 2 no 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 però neanche regalare i voti perché pensa che vengono anche regalati a volte i voti sì sì penso proprio di sì ci vorrebbe un po' più anche di almeno io parlo per la scuola primaria certo certo però non lo so e i giudizi e i giudizi al posto dei voti sì sì ma secondo me in prima elementare non darei proprio dei voti perché ancora i bambini si inseriscono quindi dare un po' il tempo parliamo più delle medie superiori magari parlo più per le medie e le superiori sì di sostituire il voto con il giudizio ma secondo me bisogna studiare per se stessi non per il voto quindi se un ragazzo raggiunge questa maturità deve capire che non deve studiare per il voto per raggiungere il voto ma perché è importante lo studio ma le maestre hanno mai preso dei quattro? ma forse ricordo alle magistrali in latino però subito dopo ho sempre recuperato cioè quindi lei è servito comunque da stimolo sì 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 non l'ha battuta no non l'ha fatto passare la voglia di studiare no assolutamente no ci fermiamo per la pubblicità ma non andate via perché tra poco altre interviste al Sassonello Stagno Cosa si ricorda dei suoi tempi scolastici era un bravo studente? medio diciamo no non è certo ma dei tre dei due degli zero no ma i tre si no in che senso hanno quei voti lì? ma non lo so guardi no non lo so perché adesso vorrebbero eliminarli stop ai voti bassi sotto il quattro non so guardi non so non so cosa come potrei rispondere adesso fanno le valutazioni mi sembra la cosa lì però penso che no penso che no cambi molto se uno prendeva quattro vuol dire che non aveva studiato non aveva dicono che se un ragazzo prende un due basta come ucciderlo viene demotivato gli fai passare la voglia di studiare una volta sono mai morti dopo due era abbastanza improbabile prendessero due quattro magari diversi ma due o meglio i giudizi del voto del numero non so dove parlare con un docente non so non ho preparazione per dirle io so che i voti se prendevi quattro o cinque era insufficiente non era bello e penso che si danno insufficiente grosso modo poi no non saprei dire cosa poi l'ho detto parlasse con mia moglie che è insegnante magari avrebbe un'opinione diversa diversa più più precisa ha la reputazione di essere una di manica larga sua moglie da insegnante quello lo so so che i bambini le volevano bene quello lo posso garantire la proposta eliminare i voti bassi a scuola sotto il 4 aspetta però io sono all'elementari e sa che si è rivoluzionato tutto non abbiamo più i voti all'elementare in che senso lei frequenta la scuola elementare? sì sono maestra di religione ah ci sono la quarta no non ci sono più i voti all'elementare a te ci sono il pienamente raggiunto gli obiettivi? sì però io insegno religione e quindi ho la valutazione ottimo distinto buono sufficiente no ottimo distinto buono quel discreto che non si capisce se si può o no sufficiente non sufficiente però non c'è il gravemente insufficiente che mettevano i miei tempi ah ma lui sta già riprendendo sì sì sta parlando di questo argomento di voti gravemente insufficiente non esiste non penso che ci sia più all'elementare non credo ci sia mai neanche stato perché il non sufficiente è già parecchio fa capire fa capire poi lo vedi noi abbiamo un registro elettronico che ha dal sufficiente in su il verde e l'NS del non sufficiente è rosso ok come i numeri delle medie mentre invece con le nuove valutazioni secondo me i voti bassi non sono nostri ma è in via di prima acquisizione è il livello più basico quindi dice sta pian piano apprendendo sta pian piano imparando quindi io non lo vedo come un negativo ma metta anche uno che è straniero appena arrivato e in via di prima acquisizione è già è già una cosa buona bisogna staccarsi da questo vale come il vecchio numero 19 8 7 6 5 bisogna proprio fare una rivoluzione nel pensiero quindi è molto meglio comunque un giudizio secondo lei di un voto un numerico beh sì a parte che glielo si diceva tu non sei il voto che prendi è l'apprendimento di quello specifico obiettivo di quella verifica hai studiato poco hai studiato tanto sei riuscito a capire di più o di meno è valutata così ma non sei tu ma quello è già penso che lo dessimo per scontato già prima no? col voto qualcuno dice che invece i due servono sì ma non sei tu il due certo è quella la differenza importante che c'è ancora anche alle medie ora ma anche alle superiori tu non sei il voto che prendi tu sei molto di più sei più compresso poi c'è che una volta hai studiato una volta non hai capito e c'è una discesa poi ti recuperi e sali mamma io ho preso 4 ma io valgo molto di più ma io le ho prese sì cioè mio papà li chiamava le scagne perché abbiamo fatto il liceo scientifico e c'è un paio di scagne e beh potassi dopo basta è capitato? potassi e li ho presi e li ho cercato di tirar su mi hanno rimandato in matematica in prima ma mai sotto il 4? allora ai miei tempi adesso sembra che mi bulli però una volta in fisica non educazione fisica io avevo preso 9 una mia compagna 1 siamo andati a casa dicendo abbiamo perso 10 in 2 ok sì quindi anche l'uno aveva dato era probabilmente un supplé era un po' giovane non so però sì si poteva dare è motivante un 1 ti fa passare la voglia di studiare? non so perché l'aveva preso l'altra ragazza però ecco l'uno no penso che sia proprio cioè come fai a tirar su un 1 ecco anche per il recupero forse partiamo dal 4 sì anche se adesso davvero sono proprio fuori dalla logica dei numeri perché non dandoli bisognerebbe chiedere a qualcuno di là se voi andate un po' dopo il cimitero ci sono le medie era l'ultima intervista per il nostro sasso nello stagno della settimana legato alla proposta di stop ai voti bassi quelli almeno sotto il 4 grazie da parte mia a tutti voi che avete seguito anche questa settimana il nostro appuntamento con le inchieste per strada oggi a Nembro grazie a Vladimir Lazzarini per le riprese e il montaggio del sasso nello stagno torneremo tra 7 giorni sempre qui sull'84 di Antenna 2 TV grazie a tutti